Manca davvero poco alla WWDC del 2023, la World Wide Developer Conference è l'evento in cui tradizionalmente Apple svela ogni anno i nuovi sistemi operativi e quindi iOS, macOS, watchOS, tvOS, tutto quello che è l'anima software dei suoi dispositivi ma alla WWDC spesso c'è posto per qualcosa in più, una one more thing in classico stile Apple e più volte che no si tratta di prodotti che si vedranno da lì a qualche mese questa volta le voci che si rincorrono su questa WWDC sono tutte convergenti verso un unico punto un visore per realtà virtuale e realtà aumentata un mercato che per la mela è completamente nuovo e che come tradizione dell'azienda di Cupertino potrebbe conoscere un'esplosione proprio grazie all'introduzione di questo nuovo prodotto quello della realtà virtuale e realtà aumentata è un mercato che esiste da un po' ma che solo in questi ultimi tempi sta conoscendo in effetti un'esplosione più significativa con i prodotti di Sony, con il PSVR 2, con le nuove generazioni di quelli di Meta e quindi il Metacast 2 il mercato della realtà virtuale sta diventando effettivamente un terreno interessante ma chiaramente come è sempre stato nella storia di Apple questo visore, se mai arriverà, ma insomma tutti gli indizi puntano in questa direzione dovrebbe portare questo tipo di applicazioni e di hardware su un livello completamente nuovo il dispositivo potrebbe essere come lo vediamo in questi rendering ci sono ormai centinaia di ipotesi che circolano sulla rete ci sono dei modelli realizzati su quello che è trapelato dalle solite fonti ben informate più o meno ben informate, ma insomma potrebbe essere qualcosa del genere che richiama poi effettivamente quanto già visto con alcuni prodotti Apple di fascia alta come le AirPods Max stiamo naturalmente parlando di indiscrezioni, rumor, a volte anche selvaggi ma insomma quello che si riesce più o meno a capire e anche a immaginare perché il prodotto abbia un senso al momento del lancio è che la base delle applicazioni disponibili debba già essere in qualche modo importante se non numericamente almeno per la qualità delle funzioni e quindi questo visore potrebbe essere qualcosa che integra la compatibilità con le applicazioni di iPad, iPhone e Mac e che possa portare all'utente una disponibilità di espansione del proprio ecosistema diventando magari un display ulteriore per il Mac piuttosto che un'estensione delle capacità dei dispositivi mobili o poi se questo dispositivo dovesse davvero mai vedere la luce sarà un qualcosa che andrà ad integrarsi profondamente e completamente con quella che è la visione Apple della tecnologia personale ovvero qualcosa che diventa parte integrante della vita dell'utente esattamente come è successo con i dispositivi iOS prima e con il watch poi ecco in questo senso un visore per la realtà aumentata e virtuale potrebbe davvero rappresentare una chiave di svolta per tutto il segmento, per tutto il mercato questo perché le disponibilità software di Apple al momento potrebbero integrare in modo efficace tutto quello che riguarda la sfera del awareness e quindi l'attività fisica ma anche quella mentale insomma che è diventata uno dei punti più interessanti di sviluppo per quello che riguarda questo settore nei piani di Cupertino ma ovviamente l'intrattenimento e la produttività non sono segmenti secondari e quindi le estensioni di possibilità dai dispositivi di utilizzo quotidiano a questo visore potrebbero fare un salto generazionale ovvero si potrebbe pensare ad avere delle comunicazioni in realtà immersiva direttamente nel visore e quindi comunicare e collaborare con altre persone esattamente come se fossero nella stessa stanza ecco in questo senso le collaborazioni sul lavoro possono diventare davvero un settore di applicazione molto interessante per i dispositivi di realtà virtuale e ovviamente essendo Apple già strutturata da questo punto di vista integrare questo futuro dispositivo nel suo ecosistema professionale potrebbe essere davvero qualcosa di immediato pensiamo ad ambienti di lavoro virtuali simulati tridimensionali in cui ad esempio collaborare su Freeform che è una lavagna, una whiteboard digitale su cui tutti possono effettivamente interagire e in qualche modo creare un ambiente di lavoro da remoto ma effettivamente come se si fosse in presenza semplicemente indossando questo visore o poi chiaramente non mancherebbero le attività ludiche la realtà virtuale nasce negli anni 90 soprattutto con questo tipo di idea, di concetto insomma nel creare mondi che non esistono sovrapposti alla realtà reale in cui si può interagire ovviamente anche in forme divertenti pensiamo all'intrattenimento interattivo e quindi ai videogiochi ma non solo, pensiamo anche allo sport ad esempio si potrebbe pensare al vedere una partita di calcio piuttosto di qualsiasi altro sport direttamente nella realtà del campo immergendosi con il visore in quello che è un ambiente riprodotto ma ovviamente attraverso la grafica tridimensionale e l'audio spaziale assolutamente incredibile insomma c'è di che aspettarsi da questo prodotto fantomatico ma più ipotetico in realtà che fantomatico e poi ovviamente tutto quello che riguarda la sfera del design sarebbe in linea con quanto Apple ha presentato finora insomma è facile immaginarsi che il visore sarà disponibile in diverse calature di memoria ma anche per quello che riguarda la parte estetica con diversi cinturini diciamo da abbinare allo schermo vero e proprio e alla tecnologia reale e soprattutto a diverse pezzature di memoria e di capacità ora la cosa più importante ovviamente rimane la tecnologia è quello che c'è dentro e su questo effettivamente finora non è trapelato granché c'è il massimo riservo è ovvio che dato che la tecnologia in questo senso ha fatto passi avanti e sul mercato ci sono già disponibili prodotti di livello altissimo pensiamo al PSVR 2 con i suoi display OLED e il suo audio immersivo insomma è difficile pensare che al quartiere generale di Apple non abbiano una strategia assolutamente definita e tecnologicamente d'avanguardia per quello che riguarda questo prodotto ecco questo è tutto quello che sappiamo al momento su questo ipotetico ma probabile visore della mela anche il nome è ovviamente al momento ancora un mistero come si chiamerà Apple Reality, Apple Reality Pro, Apple View, Apple Glass boh al momento non è dato sapere intanto la ridda delle indiscrezioni continua tutto quello che è venuto fuori in questo momento va preso con una pinza lunga 8 km perché ovviamente non si saprà nulla fino al momento del keynote di presentazione ma insomma potremmo davvero trovarci di fronte a una prossima rivoluzione per il mercato della tecnologia personale che andrà ad affiancarsi a quella in corso dell'intelligenza artificiale grazie a tutti grazie a tutti